Questo video riguarda i migliori 3 carotatrici. Il vincitore della qualità nel nostro carotatrici va all'S&R Sega Atazza. Corona diamantata per carotaggio da 82 mm in un set completo e pronto all'uso. Fresa carotatrice professionale per calcestruzzo, cemento armato, prodotti abrasivi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, muratura, pietra arenaria e calcarea fino ad una densità di 2,0 kg su decimetri cubi, in tonaco, poroton, compatibile con tutte le carotatrici e trapani con mandrino SDS+. Consigliamo di osservare la velocità massima di rotazione di 850 giri PERMI INUTE. Bisogna rimuovere la punta di centraggio dopo avre praticato un foro di 5 mm e lavorare senza utilizzare la funzione di percussione. Altezza segmento diamantato 10 mm. Grani di diamante resistenti alle alte temperature. È necessario tuttavia lasci il raffreddare la corandiamantata quando si surriscalda. Questa corona è uno strumento professionale ad alte prestazioni ma va usta correttamente. La corona e gli accessori sono forniti in una scatola di plastica con una pratica chiusura ad avvitamento. La consegna include. Corona diamantata da 82 mm, trapano centrale 6x120 mm, adattatore SDS Plus M16, cuneo di estrazione, una scatola cilindrica. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Catur Frese Carotatrici. La punta per parete da 60 mm di diametro è realizzata in materiale metallico con punta in metallo duro, stabile e resistente, perforata rapidamente in una lunga durata. Tecnologia di saldatura ad alta frequenza. Le aperture di saldatura sono molto forti con una bocca di saldatura liscia all'interno e all'esterno. Operazione del foro di apertura della parete e della struttura in mattoni, come adobe wall, muro di mattoni misti, muro di cemento, muro di schiuma, muro di mattoni rossi. Ampiamente usato per installare il condizionatore d'aria, l'aspiratore dei fumi d'olio e il foro della tubazione della fognatura aperto, ecc. Il vincitore della Performance Premium nel Carotatrici è il punta da 350 mm. Punta in carburo di tungsteno di alta qualità, lunga durata e lunga durata. Adatto per pareti in mattoni, mattoni rossi, pareti in muratura, mattoni in schiuma, trapani ad anima cava, ecc. Può essere utilizzato per installare condizionatori d'aria, come condizionatori d'aria, cappe o lavatrici. I denti della punta sono affilati, la vibrazione è piccola durante il processo di apertura e l'operazione è stabile. Arrotonda le combinazioni di lame in lega, ciascuna delle quali sopporta una parte del carico di lavoro, non soggetta a scheggiature del bordo. Questo insieme include 30 mm, 40 mm, 50 mm e 110 mm punte nucleo, SDS più mandrini, trapani guida e 350 mm SDS più gambo estensione. Fori di drenaggio professionali progettati assicurano asportazione del trucciolo in apertura. Viene fornito completo di carotatrice, punta pilota e SDS pergolato, facile e veloce per tagliare buco pulito liscio. La bassa pressione è essenziale per prolungare la vita delle punte di taglio e ottenere un taglio dritto. Apri scatole foro non possono essere utilizzati per calcestruzzo, muri portanti, pareti con barre in acciaio. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.